Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B, partiamo come sempre dall'immagine del satellite che ci mostra l'Italia sotto questa estesa copertura nuvolosa, sono diverse le perturbazioni che stanno attraversando il nostro paese e anche nei prossimi giorni situazione molto variabile con vari impulsi di aria fredda di origine, addirittura polare che raggiungono l'Italia, portano mal tempo e anche un progressivo calo delle temperature, anche se al momento al centro-sud il clima è ancora abbastanza mite, però attenzione al nord invece fa già freddo e già oggi tra tardo pomeriggio e sera arrivano delle nevicate anche a quote molto basse nelle regioni settentrionali, quindi non solo in montagna ma quasi anche in pianura, anzi probabilmente anche nelle zone di pianura qualche fiocchetto tra la pioggia riusciremo pure a vederlo. Poi la giornata di mercoledì vedrà ancora condizioni di mal tempo in molte zone del paese ma soprattutto al centro-sud con nuovi acquazzoni, nuovi temporali, parecchio vento, invece al nord si attenuano le precipitazioni, torna anche qualche parziale schiarita anche se è presente molta umidità, quindi in pianura il cielo facilmente rimarrà piuttosto grigio. Poi attenzione perché l'aria fredda raggiunge anche le regioni centro-meridionali, quindi anche nei giorni successivi tempo molto variabile, giovedì sta una giornata con ancora condizioni di mal tempo in diverse zone d'Italia, soprattutto versante tirrenico e giovedì stavolta arriva la neve in maniera anche più diffusa al nord-est e anche in Emilia-Romagna, nell'entroterra Ligure, nelle zone interne della Toscana con nevicate anche in pianura. Insomma ne vedremo davvero un po' di tutti i colori, rimanete quindi con noi anche consultando la nostra app gratuita Trebi Meteo.